Non sembra arrestarsi l'ascia di rapine che si è registrata in quest'ultimo mese in città, così dopo le rapine a Due Gioelleria, Costa e De Maria, dopo i colpi messi a segno a rimendie di tabacchi e stazioni di servizio e dopo il colpo fallito al barcucè, ieri mattina ad essere rapinato è stato il negozio di abbigliamento Zuiki che si trova sul viale San Martino. I malviventi sono entrati in azione intorno alle 10, il rapinatore aveva il volto coperto e impugnava in mano un taglierino. Una volta dentro il locale ha minacciato i dipendenti e le persone presenti intimando loro di non opporre resistenza e di consegnare quanto fosse contenuto in cassa. Un bottino di diverse migliaia di euro quello che il malvivente è riuscito a portare via. È fuggito a piedi ma non si esclude che ci fosse qualcuno pronto ad attenderlo per allontanarsi ancora più velocemente. L'allarme alla polizia è stato dato solo dopo un'ora il colpo, gli agenti e la polizia di Stato arrivati sul posto, non è rimasto altro che ascoltare i testimoni presenti e visionare le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza che si trovano in tutta la zona. Grazie a tutti.